Il futuro in Europa, la riscossa del Partito Democratico e la possibilità di governare la Regione Marche. Sono tanti i temi emersi durante la Grande Cena Popolare, organizzata da Matteo Ricci per la conclusione del Tour Pane Politica, titolo del libro scritto recentemente dal Sindaco di Pesaro. Una serata di festa con oltre 1600 persone, svoltasi a Pesaro negli spazi dell'ex Fiera Campanara, grazie al prezioso lavoro di oltre 100 volontari. Abbiamo finito una presentazione del libro in tutta Italia, nel centro Italia. Volevamo finire con una grande cena popolare, diciamo che ci è sfusita un po' di mano la cosa perché abbiamo 1600 persone, forse di più. Abbiamo dovuto chiudere le prenotazioni tre giorni fa. Ringrazio però la famiglia Tomasucci che ha messo a disposizione questo cappannone. È stata veramente una serata unica perché sono persone che hanno dato un loro contributo alla campagna e in generale all'associazione che ha organizzato e quindi non è facile mettere insieme tutte queste persone da tutte le marche e le ringrazio davvero tanto. Nel corso dell'intervento il Sindaco Ricci ha parlato della situazione attuale in Regione. La sanità è nel caos, dice Ricci, la giunta è incapace di gestirla. In ottica Europa invece il primo cittadino pesarese ha ribadito la sua disponibilità per le prossime elezioni europee, ammettendo però che la sfida sarà tutt'altro che semplice. C'è una disposizione, so che sarà molto dura, è una sfida difficile, però noi le cose facili le lasciamo agli altri e quindi siamo pronti a pedalare a testa alta. Come abbiamo deciso di fare dal 19 di aprile attraverseremo l'Italia centrale in cinque giorni fino a Roma e questo sarà un viaggio che metterà al centro i vari temi che ho accennato, quello della sostenibilità, della lotta all'autonomia differenziata, ma anche quello del sovranismo da sconfiggere perché noi abbiamo bisogno di un'Europa più federale e più forte, altrimenti nei prossimi anni non conteremo nulla. Grande sostegno per Biancani, quale sarà il futuro di Pesaro? Io penso un futuro positivo, abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, uniti, combattivi, uniti all'interno del PD, uniti nella coalizione e quindi credo ci siano tutte le condizioni per vincere. Poi Biancani è un candidato popolare, conosce a menadito le questioni della città, è un ottimo amministratore, sta facendo un'ottima campagna e io quindi penso che qua le cose andranno bene. La destra pensava qua di spugnare l'ultimo fortino, invece qua batterà il muso e da Pesaro partirà la riscossa per le marche.